Stamattina iniziamo con questa decima edizione del Festival, un Festival che ormai ha assunto i connotati di un vero e proprio evento nel panorama calabrese. Naturalmente il Festival è il riassunto di un anno di lavoro a fianco dei migranti nei nostri progetti di accoglienza. E attraverso il Festival, soprattutto nelle sessioni mattutine, cerchiamo di affrontare i problemi dal punto di vista scientifico con dei seminari che sono rivolti soprattutto agli operatori e alle persone che vogliono conoscere questo mondo ma dal punto di vista delle professioni. E poi abbiamo altri momenti che sono i momenti di dibattito, i momenti ludici, per cui è un Festival che attrae molte persone, molti curiosi e attrae soprattutto quelle persone che sono vicine a queste tematiche. In un momento drammatico come questo, dove è esplosa per l'ennesima volta una crisi internazionale, quella dell'Afghanistan, e proprio in virtù di ciò, il fatto che non c'è più Gino Strada da circa una settimana, noi dediciamo il Festival ad Emergency al popolo afghano e soprattutto a Gino Strada che è stato un eroe dei nostri tempi moderni.